Dopo aver visitato anche a sorpresa molte delle strutture sparse sul territorio, il nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria altoatesina Thomas Schell ha avviato un'attenta verifica dei costi, uno dei punti dolenti della sanità made in Sud Tirol e le sorprese a quanto pare non mancano. Se ne è discusso nel corso di un meeting al quale hanno preso parte numerosi responsabili e dirigenti sia del settore sanitario che di quello amministrativo. Primo punto, nel primo semestre del 2015 si sono spesi 2 milioni e mezzo di euro in più del preventivato, maggiorazione riconducibile in particolare agli aumenti nel settore dei presidi sanitari e all'assistenza farmaceutica. Abbiamo chiesto al comprensore, specialmente nell'ambito ospedaliero, di fare attenzione alla spesa farmaceutica ospedaliera al consumo di dispositivi medici, per cui con una scelta costo efficace per interventi chirurgici o anche appunto per la scelta delle terapie, noi pensiamo che 5 milioni possono essere tranquillamente recuperate. Thomas Schell, senza muovere critiche ad personam, ha detto un'altra cosa importante, per l'anno in corso si è fatto davvero poco in tema di pianificazione. Sicuramente nel 2015 soffre di una mancata pianificazione, ma questa cosa la recuperiamo immediatamente perché noi incominciamo con le riunioni di questa settimana e poi con le riunioni di settembre la programmazione 2016. Si punterà dunque ad una spesa farmaceutica più mirata e precisa, per esempio in tema di terapie oncologiche, qualcosa dovrà cambiare senza che i pazienti debbano patire un peggioramento nel trattamento? No, perché noi abbiamo farmaci non solo nell'ambito oncologico, dove appunto l'emissione nel mercato non significa che hanno una maggior efficacia clinica, per cui diciamo quello che ci interessa è l'esito, cioè la sopravvivenza e il periodo senza progressione della malattia. Se abbiamo dei farmaci a parità di efficacia terapeutica, penso che fuori discussione che usiamo il farmaco, che conosciamo e che da tempo è sul mercato e non necessariamente l'ultimo è arrivato. Altro punto, la provincia di Bolzano non ha approvato il conto consuntivo 2014, non proprio un segnale di fiducia. Per il bilancio 2014 la Giunta ha deciso di fare una verifica, per cui rielaborò tutte le partite del bilancio, chiaramente ci sono dei dubbi espressi dal Revisore dei Conti e anche dall'assessorato, vedremo dove porta il risultato.